Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento La Maledizione dell'Onore, un romanzo di David Annandale ed edizione italiana a cura di Asmod Italia che io ringrazio immensamente di cuore e come sempre, soprattutto anche per il fatto, li voglio ringraziare due volte di più perché stanno portando in Italia questi romanzi, tra cui ne abbiamo visti differenti, usciti ad esempio, sono usciti i primi due e forse sta per uscire il terzo di Arkham Horror, il primo di uno dei miei GDR preferiti di sempre, La Leggenda dei Cinque Anelli che se vi ricordate ho già portato l'edizione della Need Games, che tra l'altro colgo l'occasione per salutare e per ringraziare che è qualcosa di spettacolare e bellissima, ma hanno portato anche il primo romanzo di Twilight Imperium e in questo primo romanzo La Maledizione dell'Onore c'è veramente all'interno tutto quanto il Rokugan che lo sapete, il Rokugan è l'ambientazione della Leggenda dei Cinque Anelli ci sono veramente personaggi di spessore, ma la cosa più bella è che, come ho sempre detto, l'avrebbero potuto ambientare tranquillamente in Giappone non hanno voluto fare un Giappone fantasy, hanno detto, sai che c'è, prendiamo tutta quanta la cultura nipponica e facciamoci direttamente un'ambientazione nostra e secondo me è stato molto meglio così, perché nella prima idea principale c'era forse quella di fare un Giappone fantasy mentre invece hanno mantenuto completamente e totalmente la cultura dell'epoca tipo periodo Sengoku, periodo Edo, dei samurai e hanno tirato fuori un gioco di ruolo veramente spettacolare e questo primo romanzo portato in Italia è uno spettacolo ve ne parlo a breve, dopo la sigla Nella Maledizione dell'Onore, in questo romanzo a cura di Asmo d'Italia vediamo ovviamente, di proprietà della Fantasy Flight vediamo un gruppo di samurai del clan del Granchio che sono quelli, vi ricordo, d'ambientazione stanno a proteggere la barriera che divide le terre dell'imperatore, della famiglia imperiale dalle terre oscure meglio conosciute in questa ambientazione come le terre dell'ombra sono quel classico territorio un po' consentitemelo, un po' alla Mordor dove praticamente ci sono queste creature dell'ombra che pian piano riescono a passare e arrivare nella terra dell'imperatore e il clan del Granchio sono quel clan di samurai un po' più, tra virgolette perché stanno molto attenti all'etichetta e tutto però visti dagli altri un po' più come i rozzi non sono sicuramente corticiani o come il clan della Gru che sono i classici maestri dell'estrazione rapida e tra l'altro sono anche i maestri dello stesso imperatore i maestri di spada dell'imperatore e della famiglia imperiale non sono molto visti di buon occhio e che non sono quei classici samurai che stanno a corte sanno tutta quanta l'etichetta e gente che sta alla frontiera a combattere da mattina a sera le terre dell'ombra una specie un po' di guardiane della notte del trono di spade e quindi hanno quel ruolo preciso di dover difendere il mondo civilizzato dalle terre dell'ombra di Fuleng ed è veramente uno spettacolo assurdo e in questo romanzo, senza farvi purtroppo spoiler, inizia con un personaggio che è il figlio del Daimio, tra l'altro che sta cercando di fare il possibile per un giorno poter ambire e diventare o comunque un generale dell'armate o se non proprio il Daimio del clan del Granchio e sta cercando di mettere da una parte in campo la sua bravura che poi non è moltissima, maturata negli anni si vede che è ancora imperfetta è più il portamento da samurai che ha che non veramente l'abilità sul campo di battaglia però pian piano si sta formando e deve sempre tenere quell'atteggiamento autoritario soprattutto per gli uomini che lo seguono ed è bello che il romanzo racconta di come loro stiano tornando verso la barriera del clan del Granchio e tornando indietro praticamente vengono presi da una tempesta da una bufera di neve durante lungo un passo montano si riescano a salvare veramente per poco portandosi dietro una carovana di contadini e ovviamente anche nuove scorte da portare cibo e quant'altro da bere che li stanno attendendo di vitale importanza e durante la notte che cala in questo gelido inverno durante questa tempesta finiscono in una città maledetta o comunque una città fantasma tra virgolette che non dovrebbe essere in quel posto ed è una città leggendaria che dice che appaia soltanto in un dato momento e soltanto ad un dato eroe o gruppo di eroi perché ci sarà qualcosa le deve dare una missione o comunque se la città si fa trovare perché non la trovi se non si va a far trovare se questa città si fa trovare succederà qualcosa ed è l'inizio di questa missione di questo samurai imperfetto seguito da altri samurai che gli vengono mandati dietro e che le dovrà comandare per una volta tornata alla frontiera ritornare a indagare su questa città per riuscire a capire perché anche e soprattutto perché se fosse una città delle terre dell'ombra sarebbe loro pieno diritto ma soprattutto dovere imperiale andarla a distruggere perché insomma vorrebbe dire che le terre dell'ombra hanno sconfinato oltre la barriera e quindi il clan del Granchio fondamentalmente ha perso il suo obiettivo e la sua missione in conclusione è un romanzo breve di tipo 240-250 pagine si legge veramente in una sera barra 2 al massimo molto interessante perché riprende bene l'ambientazione della leggenda dei Cinque Anelli l'ambientazione del Rokugan e per quanto ambientato unicamente nelle terre di frontiera con le terre dell'ombra e riguarda da vicino praticamente solo il clan del Granchio è veramente molto interessante ed ho visto che non usciranno degli altri ragazzi è uno spettacolo non ve lo fate mancare assolutamente anche visto per il costo ridotto ma per gli amanti come me del gioco di ruolo della leggenda dei Cinque Anelli edito in Italia dalla Need Games per me dovete averlo assolutamente perché anzi se siete dei game master dungeon master vi potrebbe dare delle belle idee per creare un'avventura oppure vi potrebbe fare tipo dal libro d'ambientazione per conoscere ancora meglio l'etichetta e le usanze di questa ambientazione se lo volete ordinare primo link in descrizione in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola al miglior prezzo sul mercato vi ricordo se lo trovate in lista ma è finito o proprio non c'è in lista mandate una mail al supporto a Corrado il proprietario della Gioco Libreria Semola fateli presente che arrivate dal mio canale dal canale di Coridan e che ce l'abbia ma magari è finito o proprio non c'è in lista farei il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato e usate sempre il codice discount Coridan7 tutto a maiuscolo per avere uno sconto del 7% se superate la spesa di 79 euro avete anche spedizioni gratuite in tutta Europa in due giorni vi arriva direttamente il pacco a casa quindi mi raccomando c'è di sicuro ma se non lo trovate o lo trovate ma è finito contattate mandate una mail al supporto arrivo dal canale di Coridan si potrebbe avere sto romanzo e farà il possibile ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate e se cercate una buona lettura anche visto che si va in periodo estivo magari qualcosa perché no da portarci al campeggio in vacanza al mare è perfetto ciao ragazzi alla prossima